Oh, cavolo. Andiamo via da qui. Lei è mia figlia Lollo. E loro la sua gang, le barracuda qui. Dai, mamma, smettila. Ti prego. Abbiamo un debito. Chiedilo a mamma o a papà. Oh, scusa, è vero. Non possono scoprire che la loro figlia perfetta... Sta zitta! Tieni questo, tesoro. Perché i maschi sono stronzi? Risolveremo tutto, ragazze, tranquille. Clara, sei qui? Forse non è un'idea così malvagia. Voglio dire, la casa è vuota. Sai cosa si vende bene? L'arte. Ruberemmo a gente ricca. Come Robin Hood. Alle barracuda queens. Dobbiamo fermare questa scia di rapine. Se i ragazzi cominciano a violare la legge, vuol dire che la situazione ci è sfuggita di mano. Ma che cavolo? Si può sapere cosa avete? È a causa dei conflitti interni che le gang vengono scoperte. Sei nervosa? Smettila. Cerca di divertirti un po'. Odio essere povera. Ti capisco. Lollo, tu non sei povera. Non devi nemmeno lavorare. Ehi! What's it to you? Ciao! Ciao! Grazie a tutti